Diciamola di parlare tutto il giorno di destra e sinistra e cominciamo a parlare di qualità e esperienza delle persone, e poi programmi, quello che vogliono fare. E quando vi sentite dire che vi daranno 80 miliardi di euro, come prometto le meloni, sapete per esperienza vissuta che vi stanno prendendo per i grandi esperienze internazionali che servono. Siamo pronti a governare il Paese, anche in una condizione, soprattutto in una condizione così tragica internazionale che conosco. Se hai fatto una carriera di imprenditori, sono molto preoccupate per la salute del governo. Ma certo, ma hanno ragione. Io la conosco molto bene, questo è il mio collegio elettorale, abbiamo fatto l'impresa 4.0, la strategia energetica nazionale. Le imprese se lo ricordano bene, l'ho detto oggi a Sipio Berlusconi, che di ai tuoi imprenditori sia fatto più lui o io per le imprese? Noi gli abbiamo levato l'IRES, l'IRAP. Allora, questi sono i temi che vanno di partire. Non le ha promesse di pianto un milione di alberi, il PNRR l'ho ottenuto io. Berlusconi ha fatto cadere Mario Draghi.